Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Andreone, un membro da WS News Crew, è la prima volta che mi vedrete e andremo a parlare di una cosa di cui non abbiamo mai dibattuto nel nostro canale, ovvero il fantacalcio e qui parleremo appunto di alcuni consigli di alcuni calciatori che secondo me io quest'anno alcuni di questi andrò ad acquistare se ci sarà la possibilità perché sono alcuni giocatori non top, come scommesse, tra virgolette e appunto sarà un video in cui dibatteremo di tutti i reparti adesso iniziamo subito dai portieri, io quest'anno non saprei da chi iniziare perché l'anno scorso avevo preso Andanovic ma penso che quest'anno essendo le squadre con quasi tutte la coppia dei portieri da prendere assolutamente a mio parere non mi sento di prendere Andanovic perché secondo me andrà a un prezzo troppo alto infatti secondo me tipo si potrebbe andare su Olsen che è comunque un acquisto anche se è abbastanza dubbio nella prima partita ha giocato decentemente però ha fatto anche quella papera che per fortuna non è entrata per fortuna della Roma, per fortuna sua non so se il Milante giocherà però siccome potrebbe essere una scommessa su cui puntare se non va a un prezzo troppo alto e comunque Roma ha una buona difesa quindi potrebbe essere un buon giocatore così come il Sirigu che l'anno scorso ha fatto una grandissima stagione infatti gli ha consentito di... poi il Toro ha dovuto rinnovare il contratto per forza di cose perché ha fatto delle prestazioni mostruose penso che quest'anno se non va a un prezzo troppo alto io cercherò di comprarlo comunque speriamo che garantisca buoni voti scorsa giornata ha preso solo un gol con la Roma quindi promette abbastanza bene altri portieri low cost che potremmo andare a prendere che potremmo andare a prendere sono Skorupski che secondo me Inzaghi è comunque una squadra quando è nato in Venezia che prendeva pochi gol soprattutto in casa quindi potrebbe essere un ottimo acquisto a poco prezzo così come consigli che ogni anno prendo a poco prezzo come sempre, boh, a volte prende tanti gol però in casa si potrebbe schierare le uniche coppie che quest'anno secondo me si potrebbero andare a prendere sono sia quelle dell'Atalanta che quelle del Milan se non vanno entrambe a un prezzo troppo elevato comunque il Milan ha una difesa discreta anche se è giovane e l'Atalanta comunque ha sempre dimostrato di essere abbastanza solida ora passiamo ai difensori oltre ai soliti top io posso dire che su top ci sono alcuni giocatori quali Caldara che ha appunto dato il Milan con lo scanna di Bonucci è comunque un difensore che rende abbastanza bene a buoni voti soprattutto perché un difensore gole a door ovviamente potrebbe andare a un prezzo troppo alto è un consiglio che mi sento di dare però se non è un prezzo troppo alto secondo me è ragionevole acquistarlo per un prezzo abbastanza, non so, medio tipo sui 30-40 si può ancora acquistare prendetelo un altro difensore che l'anno scorso ha giocato molto bene è il terzino di Torino De Silvestri che ha avuto soprattutto nell'ultima parte dei stagioni delle grandissime prestazioni anche qui se il prezzo non si alza troppo vi direi di comprarlo e adesso passiamo ai due terzini nuovi dell'Inter allora, Asamoah è molto duttile secondo me potrebbe essere una buona scommessa così come Versalco che ha giocato comunque un ottimo mondiale l'Atletico ha giocato abbastanza bene e comunque quando giocava a Sassuolo i suoi assist li faceva fa pochi gol però comunque quando crossa molto spesso riesce a fare l'assist soprattutto con Icardi che comunque è un rapace potrebbe essere comunque che possa portare buonissimi voti un altro... ci sono due ritorni molto importanti in due squadre il primo è Criscito che è tornato dallo Zenit comunque ha un'età abbastanza avanzata scusate se mi sono ciuccato Secomersi potrebbe prendere per non troppi crediti e comunque boh anche lì ha fatto dei gol perché ha comunque un sinistro molto buono e si potrebbe acquistare come dicevo prima per poco e l'altro ritorno è Bonifazio alla Spal che ha portato dalla Serie B alla Serie A alla Spal e poi è tornato al Torino Secondo me comunque si potrebbe puntare su di lui perché comunque ha fatto bene in quella stagione l'anno scorso si è visto poco soprattutto nelle ultime partite comunque secondo me è un buon difensore comunque come un fantacalcio a 10 persone potrebbe essere il sesto slot comunque magari se la Spal è una partita facile si potrebbe mettere e altri difensori che si potrebbero prendere a low sono per esempio Cazeres e l'altro è Gulam che è infortunato sperando che comunque i vostri avversari non rompano le scatole per il resto questa è la difesa ovviamente io direi di puntare su un top e poi su alcuni di questi che ho nominato poi ovviamente dipende sempre dall'asta perché poi dipende anche sulla gente che punta come si alzano i prezzi questi sono alcuni consigli comunque lo sapete anche voi ora passiamo al centro campo al centro campo oltre i soliti top per esempio Ilicic Meningo Mitsavic Nainggolan sotto questi top ci possono essere per esempio Chiesa che secondo me può migliorare rispetto all'anno scorso che comunque ha fatto un'ottima stagione c'è Boateng che è tornato in Serie A al Sassuolo potrebbe fare molto bene soprattutto perché come abbiamo visto nella prima giornata ha giocato da punta quindi potrebbe fare molto più gol così avanzato comunque con Dralmina ha giocato benissimo e comunque penso che quest'anno magari in doppia cifra ci possa arrivare o comunque possa fare molti assist per gli esterni del Sassuolo inoltre c'è l'anoglu che l'anno scorso ha giocato molto bene ha trovato comunque Gattuso che è riuscito a mettere in un ruolo che lo avvantaggia per segnare da sinistra poi si accenta e tira e siccome potrebbe essere un nome molto caldo anche qui dipende come si alza il prezzo però potrebbe essere un buon nome e l'altro è un giocatore della Fiorentina Veretù che l'anno scorso ho preso è stato il mio pupillo e cercherò di prendere anche quest'anno è un ottimo giocatore batte le punizioni negli angoli quindi può portare anche molti assist e gol un po' meno però l'anno scorso mi sembra che abbia fatti 7-8 poi ci sono alcune scommesse per esempio l'Adri da spalle è un po' sempre un buon giocatore che rende abbastanza bene anche qui come sesto slot quindi il sesto slot potrebbe essere molto buono e poi ci sono alcune scommesse tra l'altro Veretù batte anche le punizioni c'è anche un altro giocatore che vi vado a consigliare siccome è buono e Viviani come anche settimo slot perché comunque batte le punizioni potrebbe portare in tre partite facili alcuni bonus secondo me alcune scommesse possono essere per esempio Zaic dell'Empoli che è arrivato in Serie A comunque in Serie B ha giocato molto bene e penso che in Serie A comunque possa fare e dare il suo per cercare di portare alla salvezza l'Empoli è un altro giocatore che l'anno scorso ha fatto abbastanza bene ma purtroppo l'unica pecca di questo giocatore che si infortuna sempre e Obi è nato al Chievo e secondo me potrebbe fare benino così come Giaccherini e Birsa perché con l'addio di Castro comunque secondo me possono dire la loro soprattutto Giaccherini che appunto nella prima giornata ha fatto bene contro la Juve però anche qui dipende come si alza il prezzo purtroppo dico sempre così ma è così sono dei consigli magari ci sono altre persone che ve lo alzano perché sono in zanni e così solo questo e per il resto niente l'ultimo giocatore del Torino che è arrivato quest'anno con lo scambio ecco con Barreca che è Meite nella prima partita ha fatto vedere grandi cose ha già 24 anni però non so mi insomiglia lontanamente anche se del Torino a Pogba i miei amici del Torino mi ammazzeranno dopo questo paragone però penso che quest'anno possa fare qualche gol e comunque mi sento di dire che si può acquistare come anche qui sesto settimo slot a centrocampo ora passiamo all'attacco oltre ai soliti top Higuain Ronaldo gli altri Immobile Icardi mi sento di dire che io punterò se riesco a qualcuno di questi però cerco di prendere qualcuno sotto questi top per esempio Belotti non so perché quest'anno mi sento che posso fare meglio l'anno scorso due anni fa fece 20 e passa gol 25 non mi ricordo più l'anno scorso ha fatto una stagione abbastanza brutta rispetto ai sui standard e quest'anno secondo me se la può giocare è arrivare anche qua sui 17 18 20 gol anche sopra se veramente torna al Belotti che era perché comunque è un attaccante rapace così come vi andrei a consigliare Gomez nella prima partita ha fatto benissimo a parte che era contro il Frosinone ma secondo me quest'anno se non si alza troppo il prezzo potrebbe essere un buon acquisto perché l'ho visto abbastanza determinato così come Milik Milik io l'ho preso due anni fa l'anno scorso non l'ho preso perché appunto poi si era anche rotto però mi è sempre piaciuto perché essendo io comunque un simperizzante dell'Ajax non so dove devo giocare mi è sempre piaciuto come gioca e quindi niente adesso che è tornato in forma è andata la prima giornata e per il campionato ha fatto bene io se riesco punterò per lui e se riesco cercherò di prendere in compia con Mertens cercando comunque di non spendere troppo per questi due insieme e niente penso che comunque Napoli sia un grandissimo attacco anche con Ancelotti la prima partita ho visto grandi cose quindi penso che sia un buon giocatore un buon nome un altro giocatore dell'Ajax che è andato a Roma è Justin Kluivert che sicuramente non delle volte gioca da titolare ma poco perché è molto più esplosiva quando entra dalla panchina come abbiamo visto con il Torino e comunque penso che se uno lo prende a pochi crediti e riesce a prendere in coppia con Cenzino Anderre potrebbe essere un buon acquisto perché comunque ha una disegno di qualità anche Anderre tutti e due sono molto esplosivi è un altro giocatore che si è trasferito da una big a una semi big diciamo è Piazza che va da Juventus alla Fiorentina è sempre stato un grande giocatore ma è stato molto sfortunato per Via dell'Infortunio con la Croazia Ander 21 ha sempre ha giocato bene ha stupito anche con la nazionale maggiore quindi io penso che quest'anno se si ritaglierà il suo spazio possa fare comunque qualcosa è un ottimo giocatore per non so come quinto slot per esempio quindi cercate di prenderlo più tardi possibile non ha troppi crediti e adesso andiamo a parlare di alcuni attaccanti delle squadre che devono puntare la salvezza per esempio l'attaccante del Parma che è inglese l'anno scorso ha fatto benissimo al Chievo l'ha preso l'acoporto del Napoli però l'ha ridato il prestito per Via del Poco Spazio la prima giornata ha segnato penso sia un ottimo attaccante anche qui penso che valga la pena puntare su di lui così come Caputo che è un grandissimo giocatore anche lui si è sbloccato la prima giornata mi piace molto e potrebbe essere comunque uno dei nomi che andrò a prendere che vi consiglio così come sono molto intrigato dalla coppia di attaccanti che ha comprato il Genoa i quali sono Favilli che è comunque un grandissimo giocatore l'ha dimostrato nel torneo americano con la Juventus e se si evitare il suo spazio un doppio cibo potrebbe andare in Serie A così come Piatek che ha fatto benissimo nella prima partita di Coppa Italia si è riuscito a prendere in coppia a poco prezzo penso che sia un ottimo affare per adesso niente questi sono alcuni dei consigli del fantacalcio di giocatori che io potrei prendere non come primi però come scommesse tra virgolette e niente detto questo vi aggiorneremo con alcuni video quando faremo l'assare del fantacalcio nei membri della Semines Crew penso che io personalmente farò un video sulla mia squadra e gli altri spero che lo facciano anche loro perché niente è bello far vedere cosa ne è uscito dalla nostra asta per il resto vi invito a lasciare like a scrivere un commento a condividere e ci vediamo al prossimo video della nostra rosa del fantacalcio ciao